Giori e sioni, benvenuti! Abbiamo qui uno spilon e quattro paloncioni uno blu, verde, giallo e rosso e tre affascinanti assistenti loro con lo spilon dovranno bucare un paloncino uno per uno, quello che vogliono io già saprò quello che lasciano per me prendi la prima candidata buca quello che vuoi il rosso prego la seconda candidata il blu e sono rimasti solo due la terza e ultima candidata quello che vuoi il giallo io già sapevo che avrebbero lasciato per me il verde e infatti la 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 la